Musica E bada a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono il vostro Mr. Bistecca Ed oggi signori e me ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatore Con il Nottingham Forest Ragazzi, allora riprendiamo subito il cammino verso la speranza di poter arrivare i primi in classifica E partiamo subito dalla partita contro il Wolverhampton Ma prima guardiamoci gli aggiornamenti degli osservatori Vediamo se c'è qualcuno di interessante Forse da questi può uscire fuori qualcosa No, no, niente, non mi piacciono Il prossimo, chi ci fa vedere? Dacci qualcosa di interessante Lui com'è? Il potenziale c'è l'altro ma valutazione sul 55 Prendiamolo ragazzi Poi magari migliorerà successivamente Ma vediamo E il signor Carroll ci dà Ci dà poca roba No, niente ragazzi Non mi avvicano più di tanto Volevo anche un attimino rivedere insieme a voi Gli obiettivi quelli che ci dà la squadra Questi qua E ragazzi perché noi siamo messi male dal punto di vista della crescita giovane Perché questi da me ci strogano per questo fatto Allora Fama del brand L'abbiamo fatto Crescita giovane bisogna rimediare Finanze Ok Abbiamo più di 4 milioni Ce ne chiedevano almeno 3 Oggi nella promozione diretta Per il momento siamo benissimo in corso Cioè sono in tali niente Perché chiaramente non siamo nella hoppe Quindi ragazzi bisogna puntare su tutti i giovani Bisogna puntare su qualcuno che esca fuori dalla primavera Primavera è non so dove sia Perché non la trovo mai Ragazzi non la trovo Quando la troverò Eccolo qua Sta primavera No sbagliate Non è vero Devo andare in quell'altra sezione Vivaio Eccoci qua Allora Quello più interessante potrebbe essere O Cajun Ma neanche più di tanto O Cranger Quello che abbiamo preso ora Che forse ragazzi mi convici anche di più Danilo Cranger Potenziale altissimo 72-94 Anche Federico Conti ragazzi però eh Minchia Ah 57 Ma potenziale 77-94 È altissimo Però non lo possiamo prendere Quindi ragazzi prenderei Cranger Vi diamo proprio il contratto Così mi ricordo di allenarlo Facciamo futuro componente E anzi Bosco Cajun Non mi convince più di tanto Quindi lo scegliamo Bene Chiaramente fatemi sapere Poi se ho fatto bene Se ho sbagliato qualcosa Ma comunque Partita contro gli Wolves Dunque andiamo a sistemare Le magliette Formazione non importa Gollini In difesa Conti E Vedi Stark A che Centrocampo Galdames Lansbury Trequartista Mor In attacco Osborne Calul Dumbia E tutto questo È tutto pronto Direi che possiamo Andare Alla partita Ed eccoci qua dunque signori Da Wolverhampton Per l'incontro di championship Tra gli Wolves E il nostro Nottingham Forest Partita assolutamente da vincere Ragazzi Bisogna riprendere Il Newcastle Lassù In vetta Al campionato Siamo alla squadra Con il miglior La miglior striscia positiva Diciamo Fuori casa Stiscia positiva Con i migliori risultati Come dice qua Il miglior record Con 12 metà De pareggio E 6 punti Ragazzi Quindi Bisogna mantenere Il nostro ritmo In trasferta Inquadrato Non so chi sia E dunque Tutto pronto E direi Che possiamo Provarci Andare a prendere Sti 3 punti Ottimo il lanzo Per Musa Dumbia La mette giù Dumbia Incredibile Gol signori Da che posizione La mette dentro Musa Dumbia Sicuramente Il portiere ragazzi Ha fatto una Cappellata Pazzesca Adesso voglio vedere Il mio replay Ma Da lì ragazzi Se no ragazzi Non ci sono spiegazioni Non ha fatto Dumbia A metterla dentro Da lì Non lo sa neppure lui Vediamo Tiro Guarda sto portiere Come è scandaloso Guarda lì Che roba Ragazzi Comunque 1 a 0 Per il nostro Nottingham Oniangue Fa partire il destro Palla Che esce Di poco A me si cerca Il filtrante Per Musa Dumbia Piazzato bene Mamma mia ragazzi Che fenomeno Musa Dumbia 2 a 0 Nottingham Forest Doppietta Per il nostro In questo caso Esterno destro Ragazzi Ma dove l'ha messa Dove l'ha messa Il portiere lì ragazzi Non ci arriva mai Nella vita Ma nemmeno Se ti chiami Manuel Neuer Ci arrivi lassù 2 a 0 2 a 0 Ok filtrante Per Aldo Calulu Traversa Vede arrivare Andrea Conti Che la rimette subito Dentro Aldo Calulu 3 a 0 Nottingham Forest Ragazzi Partita Perfetta Finora da parte Da nostra squadra Anche Aldo Calulu Dalla sua Altezza Di 1,65 Riesce a trovare Il col di testa Signore Fenomenali Finisce qua Signore Il primo tempo Stiamo giocando Ragazzi Direi benissimo 3 a 0 Subito Nei primi 45 minuti Parte il cross Di John Col di testa Di Edward Paragollini No raga Calcio di rigore Fallo Ingenuo Nel nostro Come rosso Come rosso Ma non è rosso Dai Non è vero No raga Mi prego Come fa ad essere rosso Dai Mica Ha preso palla Anche Già non era forse Non era calcio di rigore Però Anche il rosso No porco cacchio Cioè non è per il gol Ma in generale Porca miseria Comunque Gollini contro Dico Parte il tiro Oddio raga Per Gigi Gollini Paratutto Batte Lumbia Vede arrivare anche Stupignan E Stupignan Salta tutti Oscar E Stupignan E sono 4 Per il Nottingham Forest Mamma mia ragazzi Che partitona Per la nostra squadra Cioè non solo Ci danno anche un calcio di rigore Mezzo Inesistente Non solo lo pariamo Ma facciamo anche il gol Del 4 In 10 uomini Che Fenomeni Galdames Fa partire il filtrante Per Stupignan Che se la porta avanti Oscar Stupignan Cerca la doppietta Personale Stupignan E sono 5 Che fenomeno anche lui ragazzi Mamma mia Doppietta di Dumbia Un gol di Calulu E doppietta di Stupignan In 8 minuti ragazzi Veramente Una squadra Fenomenale la nostra E finisce qua la partita ragazzi Vittoria 5 a 0 In trasferta Nostro Nottingham Forest Su Wolverhampton Allora signore andiamo avanti Prossima partita Che ci vedrà affrontare Laddersfield Sempre ovviamente In championship Ha accettato il contratto Da Danilo Kranger Benissimo Quindi magari potremmo Ma anche forse Decidere di mandarlo in campo Vediamo ragazzi Vediamo Comunque Andiamo ovviamente A sistemare Le magliette Signore Formazione un pochino Rimediata Con il portagollini In difesa Pereira Lampi Niglio Se è Angelino Olè Centrocampo Rascica O fuori Kasami Kranger Che lo voglio provare E attacco Stupignan E tu E dunque ragazzi Tutto pronto Direi che possiamo Andare Alla partita Ed eccoci qua dunque Signore al Forest Park Stadium Di Nottingham Per l'incontro Di championship Tra Nottingham Forest Ed Huddersfield Town Partita importante ragazzi Dei campionato Non semplicissima Ma ovviamente Come sempre Da vincere Per provare A riacciuffare In vetta Il Newcastle Che la scorsa partita Ha vinto Come abbiamo fatto noi Quindi sempre Due punti Di distacco Tra le due squadre Però ragazzi Il recupero È possibile È possibile E dunque Tutto pronto E direi che possiamo Andare A prenderci I tre punti Buono Il lancio Pere Stupignan Da posizione impossibile Tenta il tiro Grampara O fuori Scavetto Dentro Per Oscar Stupignan Che schifo di tiro Rascica Parte velocissimo Sulla fascia Entra in aria Milo Trascica Spazio Per il destro Raga L'ho vista Dentro Inizio dunque Qua signori Primo tempo Siamo purtroppo Sotto 1-0 Svantaggio Direi Immeritato Ragazzi Meritavamo Solo noi Però Per ora È così In aria Palmer 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 Sempre Palmer Palmer Ma ragazzi Non finire più Quest'azione Bravo Gollini Thierry Ambrose Che la gioca subito Pedestupignan Che ritorna Da Thierry Ambrose Che contropiede Comunque a sfondare Samuale Tho Vede l'inserimento Il tiro Palla fuori Che va ancora Da Samuale Tho E Tho Ambrose In aria Thierry Ambrose Salta il difensore Il tiro Di Thierry Ambrose Pareggio Meritato Ragazzi Per il nostro Nottingham Forest Giusto così Ragazzi Veramente Per perdere Stappartia Sarebbe stato Veramente Veramente Ingiusto Ambrose Gran goal Super ragazzi Non sa manco Lui quanti E come I difensori E quindi 1-1 E va bene Raga Il pareggio 1-1 Contro l'Addersfield Cioè va bene Mica tanto Perché se no cassa L'ha vinto Siamo finiti Però Ragazzi Reagiamoci così Purtroppo E' finita così Ragazzi Allora Abbiamo l'ultima partita Di oggi Contro il Blackburn Rovers E Non si è messi mai Da ragazzi In campionato Il Nocastro ha vinto Siamo a 4 punti Di distanza Si fa Si fa molto difficile Come situazione Dovendo a rivedere Un secondo il calendario Perché ragazzi Non è qui Rischiamo di Non arrivare primi Che sarebbe stato Il nostro vero obiettivo Anche i secondi Va bene Però I primi faceva Faceva più ganso E La vedo Torrida Ragazzi Come situazione La vedo Molto brutta Eh si Eh si 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 ragazzi Bisognerebbe anche Forse fare una cosa Perché se no Non ci viene Nel prossimo Un episodio Cioè ci viene un episodio Veramente troppo lungo Perché avremo Da giocare Quattro partite Quattro partite Quattro partite Contro Cardiff Reading Contro il Blackburn Contro il Blackburn Non ci dovrebbero essere Troppi problemi Contro il Cardiff Non lo so Però Possiamo provare Alla fine ragazzi Vediamo Vediamo come sono messi in classifica gli altri Così Ci rendiamo conto Se è possibile simulare O se è Una vera e propria follia Il Cardiff Il Cardiff fa schifo Dov'è? Ultimo Diciottesimo Ci sta Il Blackburn È Non lo vedo Venti Raga Basta Simuliamole Tanto due le abbiamo già giocate Non abbiamo giocato neanche male Quindi i giocatori dovrebbero essere abbastanza In forma Tranquilli Sì Dai Ce la possiamo fare ragazzi Voglio portare a casa la vittoria Qui eh Non Il Blackburn ragazzi Mi ha persi con tutti Dai E che non perde anche con noi Che siamo stronzi Non Facciamo Cretinate 3 a 0 Gol dietro E doppietta di Cherry Ambrose ragazzi Sempre più fenomenale Il nostro Eterno Super Bomberone E Ok E questa era la prima Conferenza stampa Motiviamo E prepariamoci Alla partita Contro il Cardiff Il Newcastle ha giocato Si raga che ha giocato E ha perso Ha perso Il Newcastle Ha perso Bella Bella Bellissima notizia Questa Quanto sono stanchi i nostri Parecchio Ma ce la faranno Perché sono Dei fenomeni E ci portano a casa Anche la partita Contro il Cardiff Questa ragazzi Non la scripiamo Nemmeno Questa La godiamo E la soffriamo Fino in fondo Allora Non è facile Hanno una buona squadra Allora però Con Molto impegno Possiamo superarli Trentesimo Sempre 0 a 0 Ma La partita è ancora lunga C'è tempo Per provare a far qualcosa Iniziano i cambi Per Eira Per Mor Sessantesimo Sempre 0 a 0 Due ammoniti Per il Cardiff Quindi stanno Un po' soffrendo E c'è il gol Di Ebbene 0 Fuori 1 a 0 E il pareggio Di Ricky Lambert Maledetto Maledetto Ricky Lambert Maledetto Ricky Lambert Accidenta A te Ricky Lambert Un po' te rimane In Liverpool Dove venire a romper I coglioni dal Cardiff Arca Cazzo Raga E' brutta Ora E' Ora è proprio brutta 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 La mia situazione Guardiamo La classifica E' E' dura Raga E' dura Il Newcastle Non lo buttiamo giù Non c'è verso Non c'è verso Guardiamoci per bene I tabelloni Allora Ehm Siamo a meno 3 Ci mancano 3 partite Ma siamo a meno 3 E ragazzi Da quel che mi ricordo Giochiamo contro Il Reading Che è quinto L'Ipswich Che è sesto E Il QPR Che è 17 Vabbè Contro il QPR Ce l'abbiamo tranquilla Contro Reading E Ipswich Siamo messi in mare Ragazzi Non sono Facili Non sono partite facili E rischiamo Di venire stroncati Quindi Dobbiamo stare attenti Ragazzi Non è facile Arrivare primi Secondi Praticamente Ormai ci siamo Di già Perché comunque Abbiamo 6 punti Sul Sul Norwich Quindi ci basta Una vittoria Per assicurarci La seconda posizione Che potenzialmente Dovrebbe arrivare Tranquillamente Contro il QPR Nelle altre due partite È già più difficile Però Dai ragazzi Ce la possiamo fare Controlliamo Effettivamente Quelle partite Reading QPR E Ipswich Town Ragazzi Quindi niente Dai Possiamo farcela Non sarà facile Ma ci dobbiamo provare A portarci a casa Con sto primo posto In Championship E dunque ragazzi Direi che appunto Il video per oggi Può finire qua Vi chiedo Come al solito C'è la tante Per uscire in su Di iscrivervi al canale Di condividere il video Con tutti i vostri amici Ragazzi Anche un bel commento E direi che ci possiamo Vedere domani Con un nuovo video Buona Ciao